E stop! Mi hai raccontato che quando eri piccola e ti capitava di entrare in qualche negozio con i tuoi genitori e vedevi sugli scaffali dei pelusci o delle bambole Spesso ti avvicinavi a quei pupazzi inanimati con la convinzione che essi avessero una coscienza Parlavi con quei giocattoli e dicevi loro Tranquilli, ci penso io a voi, ti porto a casa con me, ti salvo io Questo aneddoto descrive l'essenza di Chiara Ciò che mi ha fatto innamorare di te E il tuo altruismo La tua sensibilità Il tuo preoccuparti per gli altri Tu sei il mio mondo Quel mondo imperfetto che io voglio In cui io e te, seppure con i nostri mille difetti, siamo insieme E insieme amiamo le cose che ci piacciono l'uno dell'altra E insieme riusciamo a sorridere di quelle che ci piacciono meno Credo che ciò che spinge tutti noi a stare insieme a qualcuno E che noi tutti insieme, all'altra o all'altro, siamo migliori Questo è successo a me Stare con te mi ha migliorato Chiara mi ha reso migliore Ha scelto un pupazzo inanimato L'ha portato a casa sua E lo ha reso finalmente, a 40 anni, un uomo vero Grazie, uomo vero Grazie, uomo vero Grazie Grazie.